Hai tante domande ma non trovi le risposte? Officina delle domande è il nostro nuovo progetto, una rubrica mensile ideata per supportare i genitori, insegnanti, operatori impegnati con l'infanzia e l'adolescenza. Offreremo l'opportunità di condividere dubbi e interrogativi con un team di esperti che metterà a punto le risposte più utili alle richieste pervenute. Partiamo con la prima domanda. In questo tempo di grandi cambiamenti, che cosa ti preoccupa di più per i tuoi figli? Per rispondere, clicca sul link che trovi sulla descrizione del video. Hai tempo fino a domenica 31 gennaio.